La mia missione è un po' fare capire alle agenzie, fare capire ai nostri clienti che oggi la tecnologia è ovunque, i loro clienti che sono anche i nostri utenti, un po' condividiamo questo mercato. Noi siamo un po' come un campo di football, un campo di calcio, dove loro sono i giocatori, i privati sono i giocatori, tutti giocano all'interno del campo e noi cerchiamo di fargli capire come la tecnologia aiuta, la tecnologia li aiuta a fare vedere ai loro clienti, agli utenti, questo mix un po' utente-cliente, che effettivamente possono innamorarsi dell'immobile a prima visita, come diciamo noi nel nostro spot, per agevolare, perché sia tutto più fluido. La cosa importante è il cliente al centro, i bisogni del cliente e oggi l'agenzia immobiliare ha il ruolo importantissimo nel mercato immobiliare di gestire queste necessità dei clienti e non è sempre facile, ha bisogno di qualificare il cliente, di pre-qualificare il cliente e c'è tanto lavoro dietro, quindi la tecnologia in questo li aiuta un po' a, come dicevo prima, a semplificare questo, per avvicinare il cliente finale all'agenzia, perché l'agenzia alla fine è un consulente che aiuta il cliente a trovare effettivamente la casa di cui ha bisogno. Ci sono tante agenzie che decidono di magari fare la visita il sabato, fare la visita la domenica, è una questione di fiducia, del one to one tra il singolo operatore, l'agenzia e il cliente. Lo vediamo in tantissime categorie, tantissime imprese per aiutare il cliente, magari modificano il loro canonico orario di lavoro proprio per aiutare i propri clienti. Perché effettivamente l'utente attraverso un periodo, non tutti gli utenti, ma molti utenti, attraverso un periodo che si diversifica tra un momento in cui capiscono che ciò che vorrebbero acquistare non possono permetterselo. Quindi in questo momento, in questa fase di, chiamiamola, piccola depressione dal capire che non posso permettermi ciò che vorrei, l'agente immobiliare è un consulente importante per fargli capire cosa è meglio per loro, aiutarli, cercare magari cambiando quartiere, cambiando tipologia di immobile, fargli vedere che c'è per tutti, per qualsiasi cliente c'è una casa ad hoc.